Sì, oltre dieci ore di lavoro d'aula, più un'altra seduta di consiglio comunale dove è stata incardinata e descritta l'intero impalcato della delibera. È stato fatto un buon lavoro, soprattutto con le opposizioni che mai come oggi sono stati dialoganti, con proposte concrete e alla fine si è riuscito a votare un documento che porta veramente la firma istituzionale di tutto il consiglio comunale. Siamo contenti perché con questo regolamento, quindi con queste modifiche a questo regolamento, riusciremo finalmente ad avere possibilità più concrete di vendita più immediata del nostro patrimonio immobiliare. Tra l'altro sappiamo bene che una delle azioni importanti che sta compiendo l'amministrazione è quella della vendita del patrimonio immobiliare. Rientriamo finalmente con questa azione concreta anche nell'ambito di quelli che sono gli ambiti previsti da quelle che sono le azioni di rientro dal piano di dissesto. Siamo soddisfatti, si poteva fare sicuramente in un tempo più veloce, i tempi della politica purtroppo impongono dei passaggi che formalmente devono essere consumati. Il lavoro prodotto oggi è veramente buono, c'è un'intesa, c'è una sintonia, c'è stato veramente un dialogo che è quello a cui noi aspichiamo sempre. Grazie. Grazie.